Un tragico incidente ha scosso la cittadina di Ortona dove un ragazzo di 18 anni è stato investito da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il sinistro è avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 settembre nelle vie centrali della città abruzzese. Il giovane trovato gravemente ferito a terra da alcuni passanti è stato immediatamente soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale di Pescara dove si trova ricoverato in condizioni critiche. L'investitore che ha travolto il giovane ciclista non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito facendo perdere le sue tracce. Le forze dell'ordine intervenute subito sul posto hanno avviato le indagini per risalire al responsabile di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo stava pedalando nel centro urbano intorno alle 3 del mattino quando è stato colpito dall'automobile. Gli investigatori stanno analizzando i frammenti di auto rinvenuti sul luogo dell'incidente e sono al lavoro per identificare il veicolo coinvolto e il suo conducente. L'attenzione è ora rivolta a raccogliere testimonianze e utilizzare eventuali immagini di telecamere e di videosorveglianza presenti nella zona per individuare il colpevole. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare le forze dell'ordine per aiutare nelle indagini nella speranza di portare rapidamente il responsabile alla giustizia.